come la va ragazzi come la va ragazzi un bacione da michelone bacione a tutti belli e brutti ore ore che ora è sono le 5 e 51 del mattino buona giornata a tutti belli e brutti un bacione da michelone che ore ha 26 giorni all'alba 26 giorni all'alba poi non se ne parla più basta anche con quest'anno basta michelone ha due coglioni ragazzi ha due coglioni quest'anno purtroppo dovuto fare di necessità virtù purtroppo anche quest'anno anche quest'anno ogni tanto parlo della mia persona così anche per scambiare due parole ragazzi ve lo dico se ve lo ve lo ripeto per l'ennesima volta ve lo dico perché vi voglio bene perché vi voglio bene ormai siamo diciamo una famiglia ormai tanti di voi ho il numero di telefono ci sentiamo qua di là e ormai ormai siamo una community siamo una famiglia non fate questi lavori qua cuoco cameriere non fate questi lavori qua perché sono lavori ormai super usuranti finiti andati in manicomio vi fanno andare fuori di testa vi fanno vedere vi fanno vedere l'esaurimento nervoso sono andato all'ospedale io l'altro anno sono andato all'ospedale quindi vi dico queste cose ogni tanto perché vi ripeto vi voglio bene quindi ascoltate michelone piuttosto andate a farvi le vostre otto ore in fabbrica avete il sabato e domenica a casa libero non avete pensieri vi prendete la vostra paghetta o se no un lavoro io ho fatto questi due lavori qua nella mia vita fabbrica cucina cucina fabbrica fabbrica cucina cucina sì ho fatto anche qualcos'altro da fuori di foravia così per prendermi gli straordinari ma vent'anni di fabbrica e resto di cucina quindi qualcosa posso dirlo no andate a farvi piuttosto otto ore di fabbrica magari per un periodo provate ma non andate a fare questi lavori qua perché andate fuori di testa soprattutto stagionali perché magari annuale sarebbe già un po' diverso ma ragazzi se non trovano personale più per questo per questo lavoro qua un motivo ci sarà chiuso la parentesi ogni tanto vi do qualche consiglio siete contenti che vi do qualche consiglio di lavoro attivo prima di parlare della nostra juventus vorrei parlare due minuti del milan andrea andrea guarda che andrea tu che sei ormai un mio follower da tempo io guarda che ci avevo puntato un po sul milan e avevo ci avevo puntato ma all'inizio cosa avevo detto fonseca fonseca ma che cazzo ma era libero antonio conte era libero antonio conte che ha dovuto ripiegare sul napoli perché antonio conte ha ripiegato sul napoli ma antonio conte a napoli non è che cia zecca chissà che cazzo antonio conte è roba da milan inter juventus non è roba da napoli vedremo cosa succederà però andati prendere fonseca ma io mi sto ancora chiedendo come cazzo e c'è io ho visto milan brutti ma qui siamo ai livelli veramente di giampaolo è io ho sentito un po di milanisti disperati e disperati c'è neanche il peggior allegri e mette in campo roba del genere almeno allegri si difende e faceva quel gioco lì e la buttava in quella in quella specie quella specie di gioco lì e tentava di portarla a casa in una certa maniera ma voi ragazzi siete una roba inguardabile ve l'ho detto anche tempo fa il vostro peggiore nemico che avete in squadra il vostro più grande problema il più grande problema che ha il milan questo è leao si chiama leao si chiama leao quello lì e non è un giocatore di calcio quello lì è un pagliaccio quello lì è un pagliaccio e poi voi dovete fare quello che ha fatto la juventus via tutta la roba vecchia via tutta la ricostruire tutto quello che c'è che che è appartenuto a pioli al passato al vecchio scudetoli via tutto via tutto è quello che ha fatto la juventus via con il passato ricostruzione totale perché non era più possibile a mettere toppe di qua toppe di là toppe su toppe giù era diventato uno spianto per ricostruire devi azzerare tutto ci vorranno uno due tre anni però quello che non si è fatto la juventus ha perso tre anni mettendo toppe sopra toppe sopra toppe sopra toppe sopra toppe e poi i risultati avete visto quali sono stati zero totale una coppa italia che sono contentissimo è perché ogni trofeo è un trofeo abbiamo più coppa italia noi di scudetti di voi milanisti o della prescrittese di quindi io sono contento magari magari una coppa italia ogni anno magari però e chiudo il discorso sul mila c'è ci sono giocatori c'è questi qui non sono giocatori da milan andrea non sono giocatori da mila ve l'ho detto migliaia di volte però poi ogni tanto fate la partita della 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 che pare sia la partita della svolta e poi ritornate di nuovo nel baratro perché intanto la società questa società è una società che di calcio non ci azzecca un cazzo ibravimovic ormai è un è un alto locato che va lì a prendersi soldi non gliene frega un cazzo neanche lui perché anche quello lì è diventato un uno stupidino anche quello lì l'allenatore è zero perché quello lì non è un allenatore da squadra media da squadretta era roba che doveva rimanere in francia quello lì e poi i giocatori i giocatori giocatori per me mezzi di quelli legge voi giocate ancora con calabria con calabria calabria non giocherebbe titolare neanche nel monza neanche nel bologna calabria ma non lo so non lo so poi questi giocatori qua fanno smonare anche i più forti tipo teo erlandes magna quelli l'hanno vedranno l'ora di scappare via da questo milan qua non ma io non lo so non lo so magari siamo le ancora le partite iniziali no un po di rodaggio ma quello lì non è calcio quello lì è veramente zero 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 c'è allegri da 10 a 0 a fonseca allegri sto parlando di allegri da 10 a 10 a 0 a fonseca io ti auguro buona fortuna andrea per per te e per il tuo mila ma veramente veramente scrivimi sotto qualcosina dai giusto per interagire no è veramente veramente bom le merde li hanno vinta ma bovio interlecce chissà come come non ho sentito ancora niente di loro chissà chissà che che ladrata avranno tirato anche se loro non dovrebbero neanche essere iscritti al campionato perché io io questo qui questo lo dirò sempre io non parlo tanto di loro parlo ogni tanto un allora rispondo anche un poi passiamo veramente alla nostra juventus rispondo a un utente nuovo che mi ha fatto una domanda perché parli non parli della tua juventus dei tuoi delle degli aggiornamenti della tua juventus e parli sempre male delle altre squadre allora te lo ti rispondo anche vocalmente ti ho già risposto nel nel messaggino lì però lì si scrive a quel che si riesce ti rispondo anche vocalmente allora io parlo 9 su 10 parlo sempre della juventus 9 video su 10 parlo sempre della juventus e delle altre squadre non parlo mai male male le uniche tre squadre cui parlo male per determinate cose sono la fiorentina per la tifoseria razzista che ha il napoli perché c'è la morte con noi non lo so non l'ho mai saputo al perché ma quelli lì sono più che altro ignoranti e poi siete voi prescritti perché voi siete il fango voi siete il male del calcio voi veramente siete il male del calcio siete la mafia pura la mafia pura ho detto adesso mi sono esposto siete la mafia pura del calcio voi ecco te l'ho detto l'unica quando parlo quando parlo di voi raramente quando parlo raramente perché non parlo mai di voi cerco di non parlare di voi perché parlare di voi mi fa venire sulla mi fa venire il mal di stomaco mi viene parlare di voi perché siete l'imbancabile siete i pignolati siete i prescritti siete i dopati le avete tutte le avete tutto il fango è vostro e se avete quelli che vi paraculano questa è la vostra storia dal 1908 questa è la vostra storia adesso ti ho risposto giusto passiamo alla nostra juventus benvenuto consensao consensao adesso abbiamo gli esterni adesso veramente abbiamo gli esterni c'è chi va e c'è chi resta il rabbio all'inter rabbio all'inter un altro scarsone che vale mamma mia mamma mia mamma proprio veramente tutti i parametri zero quelli lì proprio non avete un soldo per comprare un giocatore siete proprio di morti di fame ma veramente dei morti di fame tutte le porcherie della juventus tutte le tutte e tutti gli scarti della juventus ve li prendete voi è veramente siete dei morti di fame dei morti non avete che schifo di società ma che schifo di società veramente adesso vedremo quel rabbiò lì però con in zaghi è un'altra storia perché in zaghi un vero allenatore qui devo spezzare una lancia in favore di in zaghi perché in zaghi un vero allenatore magari può anche un po sistemarlo quella quel giocatore la perché per me è scarso è un giocatore incompletto quello è un giocatore incompletto che non ha mai fatto il salito di qualità di fatti l'hanno scartato tutti i piedi e poi anche la juventus nuova no e poi do un saluto anche il nostro rugani che è andato all'ajax e lì mi dispiace mi dispiace il terzo acquisto arrivato adesso aspettiamo il quarto io penso che questo che il quarto che deve arrivare sia l'ultimo sia l'ultimo io credo sia quello la quello la ma vediamo perché qualcun acqua ancora uno dovrebbe essere in uscita dovrebbe essere il nasone quello che mi sta sulle balle no e dovrebbe essere quello la se ne palla se ne palla se ne palla di fatti non gioca mai non è neanche convocato secondo me è già in fase di io ripeto mi dispiace per costic che dovrebbe andare alla fiorentina per lui mi dispiace ma il junior il junior nico gonzalez dall'altra parte abbiamo consensato ci serve ancora e ewea quindi siamo a posto esterno destro esterno destra esterno sinistra siamo a posto e in difesa bene o male siamo lì ci manca solo la punta la punta per sostituire milic perché secondo me milic non credo rimanga la juventus quindi la punta sicuramente ci manca una punta è un centrocampista mancherebbero 22 tasselli diciamo e poi diciamo che dovrebbe essere la juventus dovrebbe essere completa vedremo anche che fine farà arthur ce ne sono con un 4 da 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 sistemare no i vari anche danilo io lo vedo da io il danilo lo vedo male adesso è infortunato è vecchio cosa vuoi fare di danilo e danilo è come un calabria uguale ormai ha dato basta basta cosa vuoi fare di danilo danilo è uno da mettere in panchina lì da te se lo vuoi tenere da tenere tenere in panchina che lo fai giocare proprio veramente quando in forma in forma perché ormai anche danilo è stato spremuto spremuto ne abbiamo sei di difensori 6 6 6 e ci manca ci mancano i sostituti degli esterni ci mancano i sostituti degli esterni anche perché vedremo cosa che fine farà questo giallo di quel di lui non si sa niente e rugani è stato ceduto non lo so il perché perché avreste avuto centrali fissi tranquilli gatti bremer calulu avreste voto rugani e danilo perché danilo non può fare più l'ala l'esterno non ha la spinta più è vecchio è rotto danilo deve giocare centrale da per dare fiato ogni tanto a bremer a gatti sarebbero stati questi questi cinque poi cambiaso cabal però ti mancano i sostituti di questi due vedete che c'è ancora del lavoro da fare vedremo cosa in cosa ci sorprenderà ancora giuntoli per me ripeto manca il tassello a centrocampo e sostituto e poi qualche terzino ragazzi comunque vedremo adesso che ancora chi verrà ceduto perché secondo me ancora 34 verranno ceduti anche per rientrare nei costi di di nico gonzalez e dell'altro lì e di consensato bel bel mercato veramente chi critica giuntoli è pazzo ragazzi sarà un po in ritardo come dici tu gianni ma e non puoi dirgli niente non puoi dirgli perché questo qui non ha cannato un colpo dicono che ha cannato solo calafiori ma o non può mica dare tutto bene no poi le altre squadre le altre squadre che mercato hanno fatto rispondimi che mercato hanno fatto gianni che mercato hanno fatto guarda il mila in che condizioni è l'inter che ha preso tre parametri zero tre parametri zero che bisogna vedere se funzionano che rabbio per me zero quell'altro lì preso dal me dal del coso lì dalla dal napoli ormai da il suo tempo l'ha dato sì la punta lì preso vedremo se funzioneranno le altre squadre napoli vedi che condizioni è quindi prima di parlare guardiamo in casa nostra vediamo e poi facciamo un rapporto con le altre squadre facciamo mettiamo una in parte dell'altra vediamo cosa hanno fatto le altre squadre io dico che meglio di così giuntoli non poteva fare adesso con questi acquisti aggiuntoli io d'otto per il mercato di giuntoli in questo momento dotto vediamo se riesce a farmi gli ultimi due acquisti per il 9 e per il 10 per arrivare a 10 io in questo momento ti davo sei e mezzo adesso ti do 8 dopo l'acquisto di nico gonzalez è di consensato ti do 8 del momento un bacione a tutti e belli brutti ci vediamo la prossima video lungo ma abbiamo abbiamo parlato un po di tutto no ragazzi iscrivetevi al canale la campanellina il canale continua a crescere uno al giorno toglie il medico di torno siamo nel 2116 ci avviciniamo a stiamo arrivando 2150 stiamo piano piano arriviamo lì arriviamo lì perché c'è da premiare il quarto in settembre no ragazzi c'è da premiare il quarto quindi iscrivetevi al canale la campanellina e ci vediamo la prossima